salve a tutti ragazzi bentrovati su crystal cross gaming box con un nuovo episodio della nostra serie di astrobot allora gente abbiamo terminato il secondo universo e siccome ci sono un po di cose sparse qua e là che sono aggiunte mi sa che ho preso la decisione di farle in un secondo momento post fine della serie diciamo perché così magari ve le porto in live un po di contenuti extra potrebbe essere carina come cosa poi ovviamente verranno aggiunte alla serie però perlomeno così faccio la recensione dell'esperienza di gioco generale anche perché mi sa che per il completismo e non sono tipo da completismo in genere però per giochi del genere un po mi andrebbe di cercare tutti i bot per esempio e visitare tutti i pianetini più piccoli con sfide un po più importanti eccetera però a beneficio della praticità e della recensione mi sa che alcune cose le salto però mi dispiace perderle quindi magari continuiamo la serie a parte post recensione diciamo così con i contenuti che possiamo dire secondari quindi io direi al campo base abbiamo fatto un po di cose oltretutto c'è rimasto qualcosa se non erro perciò quando ci torniamo poi dovremmo fare un paio di cosette in più però intanto abbiamo questa nuova galassia maledetto alienaccio ci frega i pezzi della ps5 vai la fortuna aiuta i lenti siamo sicuri va bene ok wow 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 il traffico oh cacchio 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 ok no ok il cavolo non prese tre quattro ok si riva ok ok cos'è ah ferma il tempo ok che figata via 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 svanite questi delfini ah fammi indovinare aspetta oh bene me lo sentivo io ok giusto 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 il primo perfetto ah vabbè oh voi aspetta allora qualcosa mi dice che c'è qualcosa anche qui si c'è cosa bene grazie bene grazie comunque quanto bene sono rese le cose ma proprio in ogni cavolo di circostanza sempre che spettacolo e buttalo ah guarda vedete questo bellissimo no ok ah ok si passa di livello un caricamento istantaneo santi dio ok perfetto tu fenicottero con cilindro è uscito un bot ok bene il secondo si vince sempre qui cosa succede aspetta mi sa che oh e tu no sono un cretino madonna era semplicissima da evitare questo non si può più però qui mi sa che invece ah grazie molto gentile come c'è arrivo lassù no c'è pensavo di dover dover far far saltare una di quelle ma vabbè lì ci sono soltanto monete mi pare forse sopra le sopra le macchine c'è qualcosa eh sì in realtà sì vediamo lo faccio ah va no no ok perfetto ci siamo prendiamole no ok grande ok e quelli là cosa sono serve assolutamente niente ok d'accordo ehi mi fai risalvare uh aspetta una parte elettrica non me ne ero accorto per niente ok ciao bam bam tra quanto rimane tutto in aria perfettamente veramente molto figo ok ciao 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 aspetta bam svanito holy aspetta grazie oh ed è pure il primo da quest'altra parte ok perfetto non te lo posso attivare quante volte mi pare no cavone e vai dentro ah vabbè non serve ah cavolo ok cavolissimo ok sfondati alla grande ah oh ma pensavo di avere troppo poco tempo oh 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 che fa non si ferma questo ma che va quello ah aspetta ok so cosa devo fare perfetto 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 cosa abbiamo qui ah simpatici dadoni oh eh merda eh appunto spara di qua grazie eh un'altra volta una schifezza no non è vero è andata bene stavolta qui ciao 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 ma questa per tornare indietro vero qua non c'è altro ok piombiamo qui ok questo è quello segreto e quindi che faccio qui che devo fare li sto abbassando tutti li sto facendo bene ah c'è un botte lì ok ma che che cosa mi ha fatto fare a che pro ok yeah aspetta rotola dadia furtura gira sempre dalla sua parte aspetta ma ne ho persi due ma perché qui dai no non può essere non posso aver perso due bot indietro qua e invece posso aspetta scusate un secondo eccone uno per esempio io sono arrivato da lì ok come ok allora io sono arrivato da lì e questo botte come lo piglio eh ma la gabbia ah ok aspetta magari c'è qualche perfetto perfetto yeee ok bene l'altro mascherato quindi ce n'è un altro da qui fino a laggiù dove cavolo è come un po' vedere se per caso lassù potrebbe esserci qualcosa aspetta aspetta no ok voglio vedere se per caso sono andato lassù no ok è giusto voglio un po' capire se qua c'è qualcosa però qua sotto magari no e allora che diavolo ci fa quello lì ah spero cos'è ops aspetta ok era per un pezzetto di mappa d'accordo proviamo ad andare avanti perché non vedo in che altro modo intanto il checkpoint mi fa piacere è solo che non so dove diavolo sia il bot mancante oh oh ops mi sa che non faccio in te ok invece si via 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 delle palle nooo ma già diavolo grazie grazie da che parte però oh lì c'è una scaletta grande perfetto e lui è è l'ultimo però ce n'è un altro da qualche parte che non ho idea aspetta fammi vedere riesco a vederlo da qua da qualche parte qualcosa che mi è sfuggito non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cacchio. Trambusto alle terme oppure fratellone libero. Trambusto alle terme. Cominciamo con questo. Cacchio. Bam. Una simpatica paperella gialla. Grazie. E uno. Svanisci. Lassù c'è qualcosa? Sì, qualcosa c'è. No. Bam. Dietro alla cascata c'è sempre qualcosa. Ok. Che abilità mi dà? Cos'è? Cioè? Non mi posso abbassare? Ah, ok. E quindi? Quale dovrebbe essere? Ah! Divento gigante! Ok. Ah, no. Allora. Divento una spugna. Mi riempio d'acqua e posso gonfiare le spugne. Guarda queste spugnette qua. Oh, no, vai. E dai. Ok. Basta che ci vada in acqua proprio. Ah, che belle che sono le spugnette. Sbram! 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 È bellissimo. Ok, aspetta. Se faccio così? Eh, però... Aspetta. Questa cosa è stupenda. Ah, ok. Quindi lo posso fare anche da qua. Posso usarla tipo per... Per tirare... Per spruzzare l'acqua anche a una certa distanza, se serve. Bam! Perfetto. Eh, bellissimo. È strano che però a quest'ora io non abbia già trovato altri bot. Siamo proprio certi che... Vabbè. Sì. Siamo proprio certi. Era il secondo. Perfetto. Vai, esplodi. Ah. Ok. E... E... Mi sa che devo semplicemente sfondare tutto. Ok Oh mi sa che posso fare tipo Esattamente Yeah Vai Questo cos'è il terzo? Yes Yay Ogni meccanica offerta qua da sto titolo è Veramente ispirata Non c'è che dire Bam Ok C'è un bot ovviamente E io ovviamente casco come uno scemo È il quarto? Sì Vabbè Sta andando bene Li sto beccando tutti per adesso Ok C'è il simpaticone con il simpaticone con un sacco di melma E se decidessi di ripulirlo quello? Ho fatto bene Oh non ho preso il pezzo di puzzle però Va bene ok 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 aspetta Ok Aspetta E che palle quando Do il cazzo do il cazzotto a vuoto Do il cazzotto a vuoto Ha senso andare di là? Assolutamente no No Mannaggia Facciamo così che vediamo se possiamo No 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 Decisamente no Si piegano un po' eh Cacchio Ok Grazie Sbram Oh attenzione Il percorso è un po' più complicato qua Sì decisamente Ok Eh però Non ho Aspetta Eh vabbè Mi tocca rifarlo però dai Troppo troppo Vedete che è? Forse è una buona idea fare così Ok Questi Faccio così Molto velocemente E poi vado da questo Ok Aspetta però Oh no Lì c'è un'altra cosa Mi era sfuggita completamente Oh Qua dietro eh Osservatore inquietante Perde il controllo al suono della sirena? Cos'è? Posso andare anche così Che cosa abbiamo? Aspetta un po' eh Talve simpatici umoristi Mmm Me l'ho schivato giusto in tempo Al diavolo Ok Ok aspetta Esatto No No Ok aspetta O Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, perché colla l'acqua giustamente. No! Ok, invece sì. Perfetto. È andato molto bene il livello. Non ho preso tutti i pezzi del puzzle, ma va bene così. No, non era... Stava tornando giù, lo pensavo di prenderla col tempo giusto. Allora. Fratellone libero. Vai, andiamo con ordine. Ok, va, c'è l'ombrellino. No, il gigante di... Sembra il gigante di ferro. No? Non è lui? Mi pare di sì. Non ne sono sicurissimo, ma... Assomiglia. Un sacco, però. Ok, che altro posso liberare di questo poveraccio? Mi pare di prendere questo bottino. Ragazzi, lì c'è un altro. Oh, come lo raggiungo? Oh, ci arrivo. Ma a metà. Ecco come ci arrivo. Aspetta, ma... Ma se prima... Vabbè. Intanto... E va bene. Devo prendere la rincorsa, mi sa. Ma al diavolo. Oh, perfetto. Domatori di besche. Non è una amica di besche a raccontare. Ok. Dove devo andare di là? No, c'è tutto il percorso. Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi liberare lui prima. Ok. Ok, meglio Oltretutto, aspetta, sì lo so, lo so, lo so, lo so Lì ce n'è un altro di punto Certo che sì Ho dovuto farlo subito che così me lo levavo Ehi, dovresti essere libero No? Manca ancora qualcosa? Cosa ti manca? Forse sott'acqua? No, ok, c'è questo Che però è lì, ok Ciao, buone Intanto liberiamo lui Oh, che bello E' finita la pioggia Mi si è liberato qualcosa lì Decisamente Si è aperto un chiosco qua Ma che è successo? Aspetta Grazie Oh, aspetta, vuol dire che ne manca uno Ah, ma sarebbero perle queste Non me ne sono reso conto subito Ma che diavolo No, aspetta, aspetta, aspetta Ma non volevo infastidire costoro Un attimo, un attimo, un attimo Calma Guardiamo meglio in giro Ah, siamo arrivati da qui Qui cosa c'è? Oh Aspetta, no Ok, aspetta Penso di sapere cosa devo fare Esatto Oh, il vortice Ok Non lo trovo quasi mai Maledizione Però Però Ah, vabbè Almeno i bot Il bot ora sono 100 Ok Notte dei robot viventi Vabbè Sai che è? Questi sono dei livelli extra Li faccio dopo Per ora voglio finire i I cinque universi Perché mo Mi tocca tornarci qui Oltretutto Perché Questo non ho mica finito Bratellone libero No, non l'ho finito Maledizione Oltretutto A che punto sono? Se devo ricominciare il livello da capo? Sì, cazzo Oh Carca miseriaccia No Uffa Uffa Adesso Vado molto velocemente Portietto Vabbè dai che ci torno a fare qui Solo monete Tanto devo spendere però perché Ce n'ho un sacco Oh benissimo Grazie Oh tra parentesi Raga che cretino Aspetta Aspetta Nica l'avevo visto Vabbè questo non serve Che bella sta cosa Il gigante buono E voi Che ci fate qui Oh Grazie Intruso e errante Quell'altro bot dove cavolo Dovrebbe stare però Scusate Oh Grazie a tutti. Ah, lì. Ma che sta facendo questo cretino? Ho perso i due? Dove cavolo sono? Ok. Mi manca un pezzo, sicuramente. Anzi, più di un pezzo. Mannaggia. Oh, bene, finalmente l'ho beccato. Grazie, sono 103. Così ho la sicurezza di aver sbloccato almeno un'altra cosa che avevo trovato. Le sabbie del tempo. Oh, qua ci sarà Prince of Persia. O qualcosa del genere, no? Oh, qua ci sono. Cos'è la gallina? Ah, ok, parte in orbita. Cos'è la gallina? Ah, lo abbiamo detto? ok fantastico ok ora ho capito aspetta no ma magari c'è qualcosa qua dietro ok quello come l'apro Ops, aspetta Intanto c'è questo, è ok E poi immagino Salve Ops Ah va Bellissimo Ops, aspetta Ho dovuto estrarre, ok Ok, quindi L'ho stappato Quindi che faccio qui? Forse posso planare da qualche parte Tipo lì Che ne so Oh per l'amor di Dio Ops 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 Ok, aspetta che Ovviamente c'è Qualcosa qui Ok Niente Il nulla cosmico Va bene Va bene, ok Dai E' questo Ah va Che figo L'ho spedito in orbita Allora E di qua niente Oh per l'amor di Dio Noo Il fulmine è arrivato fino in basso L'ho spedito in basso Ma tu guarda Ok, questo invece com'è? Ah, lo so io Figo Ok Datemi un secondo, ragazzi Eccomi, ragazzi Scusate del taglio Ok Perfetto, perfetto Devo dire che è andata piuttosto bene Oh, fantastico Ok E da qui, però Ah, è quello Da dove è saltato fuori Mi sono rincoglionito Non l'ho visto Ehi No, che cosa ho saltato Mannaggia Ok, una volta che vado qua Poi Ah, mi sa che... Ok, sì Bam Ma che figata Queste cose mi fanno impazzire Ok, cosa abbiamo di qua? Ok Ops Aspetta C'è uno proprio lassù Ok Ok Ma quello Nomad del deserto è un talento per fare nuove amicizie Ma quello È Journey Mi sa tanto di sì Oh, ma che figata Non me l'aspettavo Il personaggio di Journey E la miseria L'ha proprio tirato fuori Tipo Mega dente No Cosa Perfetto Ciaone Ok Ok Ok, scusate Cos'è questo? Un bello vozzo Gigante Eh Vabbè Intanto facciamo questa va Hai visto? Era un po' Mannaggia Quello che ho lasciato Non ho idea di dove cavolo sia Probabilmente da qui No Da qui Guarda Ma senti Allora Ups Aspetta un attimo Calma Non è che partano all'attacco questi Oh Ma era Vabbè Oh Lì c'è qualcosa Grazie 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 Ok Fuori da qui Mancato proprio per un soffio Madonna Salve Salve Marda Non ci posso ripensare Quello che ho perso Dove cavolo era Ah Perfetto Sono un cretino No Dove sono andata a finire Maledizione Ah Perfetto Sono stato un cretino Di nuovo Ma che diavolo è Ma Ma sono alla fine Ma no Ma ci mancava un pezzo Allora Ma maledizione Eh Vabbè Uffa Ne ho lasciati due Mi pare di capire Sì Almeno l'ho beccato Non ci sono cose extra Su questo pianeta qua Eh Su questo universo qua Di solito In giro ci sono robe Boh Ah ecco appunto Cerchio perso nel vuoto Ok Vabbè Facciamo Facciamo questo Anche se Questo è uno di quelli Un po' più complicati Probabilmente Oppure no Oppure no per niente Ok No Fatto giusto così tanto per farlo E Mette Quattro cerchietti In giro Per la mappa Che questi però Non li farò Va bene Andiamo al boss Dai Ne ho 108 Praticamente giusti giusti O quasi Ok Wow Scusate Ne hai lasciato giusto qualcuno Bam Ok Ok Il potere abbiamo Oh La gallina Ok No Mi sono accorto All'ultimo E' elettrico Qualcosa Alto in giro No Tanto di bot Ce n'è uno Una pincina Oh oh Mi sa che Oh cacchio Ok Via Wow Cos'è Che diavolo di bestia è Un serpente gigante La risposta è sì Una serpentessa gigante Lady Venomara Cos'è Che fa Ah Ah beh no Devo usare la gallina Per me Ok Aspetta Oh 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 Madre no che Aspetta Bam Un uppercut Tipo Mortal Kombat Figo Fighissimo Oh 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 ha ristretto Il campo Ok Oh non faccio in tempo a saltare Maledizione Siamo simpaticissimi oretti Sta ristringendo ancora di più Oh cacchio Fantastico Con la rotazione funziona da dio Ok però quanto lo vuoi restringere ancora Aspetta Bam Wow è questo mo' No Eh Ciao No da capo Sto cavolo di occhio che mi lacrima Ogni tanto Ok va bene Ripartiamo Va bene Ovviamente è facile È facile Ok perfetto No Perfetto Aspetta Aspetta Bam Mega uppercut Bellissimo Hmm ok dai 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 deve essere molto stretta si bam ops no ma che cacchio un altro uppercut è andata finito ok ecco quest'ultima fase pensavo fosse più impegnativa mi sa che è uncharted vero si 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 uncharted alla grande no se l'è perso vero si bellissimo bellissimo questo boss cioè secondo me altri sono stati più belli però pure questo era molto carino il boss oh ecco qua si 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 ok ci andiamo ci andiamo ci andiamo ladro di tesori vai vedo che sei atterrato preciso ok oh cacchio ok grande bellissimo bellissimo no da che parte bisogna andare ma immagino ti immagino di qua quindi aspetta a Grazie a tutti. Questa non è... è lei, non mi ricordo come si chiama. Ladra fin di bene, sa che ha dovuto guardarla andare via. Eh, chissà come mai. Ok. Ops. Ho salvato un po' per il rotto della cuffia. No, ho perso una moneta di stupidamente. Ok. ora se non mi fa almeno una scena in cui tutto viene giù non è un charted ma si può andare a qualche altra parte sì lì mercenaria pragmatica amica degli elefanti ma ne ho lasciato uno un'altra volta dove mannaggia l'uovo dorato ok quindi bam vai checkpoint viva il checkpoint questo va comunque sconfitto così minchia sto per cadere di sotto malissimo questo no aspetta questo era quello con la posizione giusta se wow wow teschi teschi ovunque uiia no 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 l'uovo dorato di nuovo molto bene però mi sa che mi sono perso qualcosa pure si infatti madonna ok si sta venendo giù l'universo mondo si no maledetto perfetto peggio mi sento oh dai ok Grazie a tutti No, ma vai a fare incur... Dai, su Via Oh cacchio, 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 cacchio Ok, è andato giù Yay Povero Capo, cava Perfetto È stato ottimo Sta sorta di doppio boss Non mi dispiace comunque Non mi dispiace Grazie a tutti. Fantastica l'animazione anche in questo caso. Grazie. Oh! Non neanche visto cos'è. Va bene. Qui peccato, porca miseria, ci ha lasciato veramente un sacco di bot. Mannaggia. Mannagiaccia la miseriaccia. Mujericcia la miseria. con tanta adesso ok l'ordine giusto bel pezzettone cos'è la scala madre? no la gpu della scheda madre ok va bene si l'avrei dovuto immaginare in effetti perchè la scheda madre? il quarto quale sarà? ok secondo me non... eh no infatti non finisce ho un altro ok e ho la missione di andare lì va bene ragazzi allora siccome c'ho pochissimo tempo io direi di terminare qui la puntata abbiamo finito l'universo nella prossima faremo un po' di cose qui al campo base e poi andiamo al prossimo universo d'accordo gente? bene quindi io vi saluto subito di corsa che devo scappare grazie a tutti per aver visto questo episodio noi ci vediamo al prossimo come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al primo canale seguitemi su twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come instagram e telegram tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad amazon instant gaming e link a patreon link alla playlist con tutti quanti i video della serie di astrobot e anche il link per acquistare il gioco e se lo acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale d'accordo gente? a presto